Ora siamo alla Garbatella, che è un quartiere di Roma, un quartiere molto importante sia storicamente sia socialmente, nel senso che questo è un quartiere nato nel 1920, la prima pietra è stata messa nel 1920 con l'intenzione di fare di quest'area, che si trova sopra via Ostienze, quindi dove c'erano i mercati generali, un quartiere popolare, operaio, che desse appunto accoglienza a tutte le persone che lavoravano ai mercati generali. Poi dopo che via della conciliazione fu rasa al suolo da Mussolini, la maggior parte delle persone che risiedevano in via della conciliazione in centro fu trasportata qua alla Garbatella. Ci troviamo di fronte a uno spazio sociale che viene chiamato Casetta Rossa, è uno spazio molto importante che nasce da un progetto del centro sociale La Strada, dove appunto 15 anni fa il comune di Roma non aveva più soldi per gestire i parchi pubblici e ha chiesto a delle associazioni se avevano voglia di gestire appunto dei punti verde. Un pezzo di collettivo del centro sociale La Strada ha deciso di occuparsi di questo spazio, che era uno spazio ovviamente completamente abbandonato, con il tetto fatiscente, eccetera, eccetera. Quindi tramite tutta una serie di progetti abbiamo ristrutturato lo spazio fino a farlo diventare quello che è ora, che oltre ad essere un punto molto importante di aggregazione sociale di tutte le età, nel senso che ovviamente poi stando in un parco pubblico è frequentato sia da bambine, sia da mamme, sia da studenti e è anche un punto di aggregazione con il cibo, cioè nel senso che noi abbiamo anche praticato questa logica del buon cibo, del prodotto a chilometro zero e quindi un'aggregazione che passa anche dalla cucina. La casetta rossa SPA, che in Italia SPA vuol dire società per azioni, noi l'abbiamo anagrammato come spazio pubblico per l'autogoverno, ossia appunto uno spazio che è pubblico quindi di tutti i cittadini e tutti i cittadini devono sentirselo come proprio, per l'autogoverno perché decide il pop, cioè decide chi fa, quindi praticamente ci sono tutta una serie di progetti che qua dentro, grazie anche alle persone che fungono da inzima, nascono e queste persone automaticamente poi lo fanno senza demandare a nessuno quello che sarebbe da fare. Innanzitutto è uno spazio che è stato tolto al degrado e questa è, secondo me, una delle cose principali. Il valore aggiunto è che si trova dentro un parco pubblico e quindi il fatto che comunque possa aggregare diverse fasce di età e che tutte le persone anche semplicemente solo usufruendo di un parco possano trovare cultura dentro appunto il verde secondo me è senza dubbio un valore aggiunto. Poi dopodiché ci sta tutta una componente, allora lo spazio è poliedrico nel senso che lo spazio è piccolo quindi sono 60 metri quadri in tutto più ovviamente tutto lo spazio esterno quindi come vocazione per autosostenersi ha deciso di essere cucina popolare quindi ovviamente uno con la scusa del cibo si aggrega nel senso che puoi mangiare degli ottimi piatti e anche poi la logica di quella che doveva essere la cucina è che non è una cucina qualunque ovviamente ci sono dei prodotti che sono ricercati, che sono quelli che vengono acquistati da produttori il più possibile locali o comunque anche le arance che ovviamente non si trovano a Roma vengono dalla Sicilia, non vengono dall'Asia per dire che comunque c'è sempre una ricerca del prodotto e del buono non tutti i prodotti sono biologici ma questo anche un po' per superare tutte le denominazioni che gli agricoltori molte volte non possono permettersi di tutto quello che è la procedura e la burocrazia però sono tutti appunto prodotti controllati e di agricoltori e allevatori locali quindi anche sulla cucina c'è ovviamente tutta una ricercatezza su quello che si mangia poi per esempio dalla cucina è nato il gruppo d'acquisto quindi dei cittadini che comprano direttamente dal produttore che alloggi ha tre anni dalla costituzione del gruppo di acquisto che si chiama appunto Gassetta Rossa conta circa 400 iscritti quindi 400 persone che fanno la spesa acquistando direttamente dal produttore e dall'allevatore carne, frutta e verdura e pesce e quindi diciamo che si strutturano poi i progetti a seconda delle persone che li portano avanti quindi da uno spazio di 60 metri quadri però in realtà non si può ridurre a una sola cosa quindi io ti posso dire che qualcuno ti dirà Casetta Rossa è cucina, qualcuno ti dirà Casetta Rossa è presentazioni dei libri, qualcuno ti dirà è feste per bambini, qualcun altro ti dirà è corso di fotografia o scambio di lingue quindi a seconda della persona con cui parli oppure del progetto che segue ti dirà che questo spazio è qualcosa e in realtà il fatto che non si possa definire che cos'è la Casetta Rossa a noi piace perché vuol dire che è uno spazio aperto e che tutti possono continuare a venire e metterci dentro quello che è per loro è o può essere la Casetta Rossa Avere uno spazio di aggregazione che è fruibile da tutti in modo assolutamente gratuito, volontario, militante vuol dire tantissime cose innanzitutto è che la cosa principale secondo me è fare socialità che è una cosa che non si mercifica, non si scambia e non si compra soprattutto a Roma negli ultimi anni con una giunta passata di destra capitalistica hanno fatto passare nella mentalità delle persone che questa città fosse insicura e che quindi bisognava stare chiusi nelle case o che comunque la televisione o il mercato il centro commerciale fosse l'unico modo per vivere una vita sicura quello che questi spazi invece fanno passare, vogliono creare è tutt'altro è un rapporto tra le persone che non si basi soltanto sul denaro per cui io vado al centro commerciale, compro e ho un rapporto con le persone è un rapporto fatto di cultura, di scambi anche semplicemente assistere a una presentazione di un libro che appunto avviene in una modalità assolutamente alla pari per cui se tu poi vuoi comprarlo il libro lo compri oppure semplicemente ti sei scambiato su alcune argomentazioni è assolutamente un passo avanti per quello che noi chiamiamo un'altra società possibile anche lo stesso fatto che un gruppo di acquisto quindi dei cittadini possano acquistare direttamente dal produttore senza nessun tipo di passaggio appunto questa filiera corta è non solo un risparmio per il consumatore ma è anche un conoscere quello che è il lavoro che viene fatto per arrivare a quel prodotto e quindi senza dubbio secondo me lo scambio umano resta principale e resta la cosa fondamentale che assolutamente in una società di qualunque tipo non deve mai perdersi Allora c'è un gruppo che parla settimanalmente se non quotidianamente con i produttori con gli agricoltori e con i produttori che vengono a proporci quelli che sono i loro prodotti dopo questi prodotti vengono proposti a questa mailing list di persone che fa parte del gruppo e ogni cittadino a turno si occupa di gestire la carne la verdura, il pesce eccetera eccetera e di prendere l'ordine quest'ordine va fatto entro un X giorno e poi ovviamente viene mandato al produttore che viene qui, scarica e questo posto funziona da punto di raccordo insomma dove le persone vengono a ritirare il prodotto che hanno acquistato e poi una volta ogni tre mesi si fanno degli incontri pubblici appunto per dire dove, a che punto sta il gruppo di acquisto quali sono i nuovi prodotti molte volte si dibatte anche del perché quell'agricoltore e non quell'altro quindi comunque vige tutto in una logica di scambio continuo e di apertura totale verso quello che è quest'altra economia e quindi tutti i cittadini possono poi partecipare sia agli incontri pubblici sia a dibattere in mail su quello che è acquistabile o meno e poi soprattutto ogni cittadino è libero di acquistare quello che vuole cioè nel senso che si è fatto anche un passo avanti da quelli che erano i primi gruppi di acquisto per cui ti arrivava la cassetta con quello che diceva il produttore adesso io posso scegliere se comprare le arance piuttosto che l'insalato piuttosto che qualunque altro tipo di prodotto di stagione o essere libera di non acquistare la carne insomma qualunque cosa viene proposto non è più dato in blocco ma è il singolo che sceglie quello che prendere l'unica cosa che magari può essere un po' più scocciante ma anche là secondo noi potrebbe essere invece un punto a favore è che ci si riprende del proprio tempo tu vai al centro commerciale o al supermercato e tu in due ore, un'ora e mezza fai tutto mentre invece qua può succedere che il pesce te lo scaricano il venerdì mentre invece la carne il giovedì però secondo noi anche questo è bello perché tu sei stimolato comunque a venire, scambiarti e a fare di quella cosa che è la spesa non una cosa dovuta che fai in fretta e in furia ma che invece ti porti anche un minimo di socialità anche se è diviso durante la settimana quindi prendiamo il positivo anche da questo il riprendersi il proprio tempo a chi mi dice che questo modello è bello ma è soltanto per persone ricche rispondo che io non sono una persona ricca come prima cosa e quindi già questo dovrebbe far pensare che invece è possibile a tutti e poi che è un altro modello di economia che non è fatto soltanto sui prodotti che sono più cari ma anzi che il vivere una società fatta anche di solidarietà te la fa superare questa cosa dell'elitarietà perché innanzitutto per quello che riguarda la spesa acquistare 400 persone un prodotto direttamente dal produttore il costo si abbassa quindi non è vero la cosa che è più alta e poi perché è capitato diverse volte a tutti che creare ed avere intorno una rete sociale che diventa poi alla fine una grande famiglia invece su tante cose di far risparmiare perché noi per esempio lo vediamo anche con i nostri figli se una di noi lavora e non può permettersi la babysitter o piuttosto nel mondo della precarietà e del fatto che puoi lavorare a tutte le ore qualsiasi giorno della settimana può capitare che tu magari la domenica devi lavorare e non sai a chi lasciare tuo figlio il fatto di avere intorno una rete sociale così grande fa in modo che tu sei sicura che puoi lasciarlo ma come questo ma come tantissime altre cose per esempio se si vende un tocco di parmigiano grande per dire perché al produttore non gli conviene farlo più piccolo tu lo acquisti magari in 3-4 persone e quella cosa che tu compri a buon prezzo viene invece divisa e quindi il prezzo finale a cui arriva a te è ovviamente minore quindi insomma io penso che ci sta assolutamente un altro modo di fare economia che è questo che è sociale e economico insomma la rete sociale che ognuno di noi si crea intorno secondo me è fondamentale anche sia per vivere meglio dal punto di vista umano ma anche economicamente assolutamente non è elitario si risparmia l'opposto l'abbiamo 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 l'abbiamo